Aprire una società ad Hong Kong. Pessima idea. In questo video si dichiara ufficialmente la morte fiscale, economica e civile di Hong Kong. Da oggi Hong Kong entra ufficialmente nella Cina comunista. Assenza di diritti, abolizione della divisione dei poteri, negazione della distruzione creatrice. Unica forza che assicura il progresso della società. Gli imprenditori stranieri stanno abbandonando l'isola e i capitali stranieri trovano nuovi rifugi altrove. I banchieri stanno lanciando l'allarme. La nave affonda. I capitali fuggono. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno revocato ad Hong Kong lo status di economia speciale e presto seguiranno gli altri paesi. Le sorti dell'isola sono destinate a deprire, grazie o per colpa, all'intervento del partito comunista cinese. In questi giorni il governo cinese ha aggirato definitivamente il governo indipendente di Hong Kong per imporre una legge di sicurezza nazionale smantellando la sua politica a un paese e due sistemi. In una notte è stata uccisa una narrazione costruita in 30 anni di apertura al mondo. È stato violato il trattato internazionale con la Gran Bretagna. Infatti la Cina si era impegnata in un trattato internazionale con la Gran Bretagna per garantire la libertà di Hong Kong almeno fino al 2050. Ma non ha rispettato il trattato. Così come non ha mai rispettato le norme della WTO sull'abolizione delle barriere doganali e le norme sulla protezione della proprietà intellettuale. Il Congresso Nazionale del Popolo, che sarebbe una specie di Parlamento cinese, ha approvato un altro progetto di legge che creerà uno stato di polizia nell'ex protettorato britannico. La Basic Law e la Balance of Powers sono abolite per sempre. La Basic Law non è altro che una legislazione che assicura la separazione dei poteri dei giudici dal governo. Niente di eccezionale, perfettamente nella norma per noi occidentali. Ma alla Cina popolare questa cosa proprio non va giù. I giudici devono essere nominati e controllati dal partito. Grazie ad Hong Kong abbiamo visto la reale faccia della Cina. La Cina è finalmente tornata nella sua comfort zone. La repressione. Non sono servite le proteste della Business Community di Hong Kong, che ha subito avvisato che ci sarebbe stata una fuga dei capitali per l'erosione dello Stato di diritto e della Balance of Powers. Da come si vede da questa carta, l'erosione della Confidence e della Business Community è scesa costantemente negli anni, da quando l'isola è tornata alla Cina. Hong Kong non conta più nulla per la Cina. Mentre 20 anni fa Hong Kong rappresentava il 30% del PIL della Cina, si tratta di stime perché era di fatto un'entità separata. Adesso però rappresenta solo il 3% del PIL cinese, per cui il governo non è più così interessato a preservare la sua indipendenza. La sua indipendenza era la chiave della sua ricchezza e quindi della sua forza contrattuale, ma adesso ci si può mettere una pietra sopra. Nel frattempo, il padre della Basic Law di Hong Kong, Martin Li, un signore di 83 anni, è stato buttato giù dal letto per essere arrestato. Ovviamente questa mossa non è stata presa alla leggera perché la repressione di Hong Kong ha creato un solco incalcolabile tra la Cina e Taiwan, che dopo gli eventi di Hong Kong ha rimesso nel cassetto ogni ipotesi di riallacciare un dialogo con la Cina popolare. Cari cinesi della madre patria, se è così che rispettate il principio di un paese e due sistemi, potete sognarvi il ritorno di Taipei. Hong Kong fallirà insieme alla Cina? La direzione che sembra aver intrapreso la Cina è molto preoccupante, ma prima di spiegarne il perché bisogna fare una premessa. La crescita economica cinese non ha nulla di straordinario, anzi, col senno di poi, dopo 30 anni, è stata molto meno importante della crescita di altre economie. Sia l'Italia che l'Unione Sovietica, per 30 anni, sono cresciute a ritmi anche superiori alla Cina. Durante la fase di Coaching Gap, quella in cui si è trovata la Cina negli ultimi 30-40 anni, la crescita cinese è stata meno importante di quella giapponese, coreana, italiana o dell'URSS, quando le rispettive economie erano allo stesso stadio di sviluppo. Persino dell'URSS, a quanto pare. Quindi crescere per 30 anni durante il Catching Gap non vuol dire proprio nulla. Significa che hai avuto successo per una stagione, ma se non ti rinnovi, non cresci. Dopo la straordinaria stagione di Catching Gap, l'URSS è crollata perché non ha saputo rinnovarsi. Viceversa, l'Italia è andata molto più lontana della Cina e dell'URSS, diventando una delle nazioni più ricche del mondo. Ma da 30 anni l'Italia non ha saputo più rinnovarsi ed è, anch'essa, in una stagnazione economica. D'altra parte, il numero dei paesi che restano intrappolati nella fase immediatamente successiva al Catching Gap, quella dov'è la Cina in questo momento, è di gran lunga superiore a quelli che invece lo superano. Questo perché tali paesi presentano istituzioni estrattive che non permettono il rinnovamento delle strutture economiche e sociali in grado di affrontare il ciclo economico successivo. Ciò è successo in Thailandia, nelle Filippine, in Indonesia, in Messico, in Brasile, in Venezuela, in Cile, in Malesia. Tutti questi paesi furono annunciati come grandi e emergenti e invece sono rimasti nella trappola del medio reddito, Middle Income Trap, deludendo le aspettative di tutti. Il Middle Income Trap è quel fenomeno che riguarda i paesi impegnati nel Catching Gap, che però dopo aver terminato la stagione trentennale di investimenti statali, a causa di istituzioni estrattive, non adegua l'economia e la società alle nuove sfide. È proprio quello che sta accadendo in Cina, con un crollo della produttività addirittura superiore a quella del Giappone e dell'Italia, di quando erano impegnati nel Catching Gap. Questo perché la Cina ha un sistema politico che crea enormi distorsioni economiche e rende l'economia profondamente inefficiente. La Cina ha già fallito la fase di Catching Gap a causa del pugno di ferro sulla società. Tra il 1978 e il 2012 la Total Factor Productivity cinese è cresciuta solo dell'1%, mentre la crescita del Giappone è stata del 4% nel periodo tra il 1950 e il 1970. A Taiwan il 3% nel periodo tra il 1966 e il 1990, e in Corea del 2% nel periodo tra il 1966 e il 1990. Col senno di poi possiamo dire che la crescita cinese è stata abbastanza scadente. Le istituzioni che impediscono la crescita dell'economia cinese sono innumerevoli e questo è dovuto sia alla natura illiberale del regime, sia dalla difficoltà di gestire una tale massa di persone. Ma in entrambi i casi queste due ragioni conducono ad istituzioni rigide che impediscono alla società e al mercato di crescere e di sviluppare le proprie potenzialità. Per esempio, Lukou è una di queste istituzioni istrative e profondamente dannose per l'economia, fu originariamente istituito dal governo per limitare l'afflusso di persone dalle campagne, così come il movimento tra le città. Ma Lukou ha finito per costare al paese moltissimo in termini di produttività, imponendo barriere alla mobilità dei lavoratori e altre inefficienze. Tutte quelle cose che sembrano decretare la grandiosità della Cina in realtà ne rappresentano la miseria. Quando vedi un treno super veloce o infrastrutture da urlo che noi europei ci sogniamo non sono altro che il simbolo dell'inefficienza economica prorompente. Infatti da circa il 2012 lo Stato, che non è in grado di rinnovarsi, continua a proseguire con uno sviluppo classico di creazione di grandi infrastrutture. Questo è un tipo di modello di sviluppo che va bene nei primi stadi di sviluppo di un'economia, quando gli investimenti nelle infrastrutture hanno un grande rendimento. Ma a un certo punto il rendimento cala, fino a diventare inesistente. Quando fai un investimento che non genera profitti, stai distruggendo risorse. Sebbene all'inizio dell'industrializzazione le infrastrutture fossero ad altissima produttività, e questo vale per ogni paese, è valso per l'Italia, è valso per l'URSS, per la Corea, per il Giappone, adesso non lo sono più. E queste infrastrutture statali pubbliche che si costruiscono sono pressoché inutili. Non producono denaro e non ne giustificano la spesa. Non ha senso costruire un ponte attraversato da poche centinaia di automobili all'anno. Ma in Cina si fa. Si continuano a fare opere a bassa redditività. Anche l'annuncio della costruzione della Belt and Road, che avrebbe dovuto sancire l'espansione cinese in Eurasia, è venduta come un grande strumento cinese ai danni degli USA. Ebbene, è una farsa. La Belt and Road non è altro che il rinnovo di queste enormi distorsioni. Fare la Belt and Road significa questo, continuare con una politica di grandi infrastrutture fuori dal paese, visto che nel paese non sono più giustificate. Ma il rendimento è praticamente nullo. Avrebbe solo effetti geopolitici molto dubbi. Infatti il governo, ormai indebitato, non ha la capacità di costruirlo da solo e il settore privato non ha intenzione di investire in un progetto a rendimento nullo. Lo si farà? Se l'élite non sarà in grado di rinnovarsi e interrompere questa obbriacatura di investimenti pubblici, la Belt and Road si farà. Ma alla fine la Cina avrà fatto un altro passo verso la trappola del medio reddito. La produttività complessiva della Cina è in declino, poiché i rapidi cali nell'uso efficiente del capitale e i rendimenti sul capitale stanno avendo effetti negativi. Il modello di crescita della Cina si basa troppo su investimenti sempre più inefficienti. Per crescere in modo sostenibile la Cina dovrebbe spostare la sua economia verso una crescita guidata dai consumi. Il problema è che l'unico modo per far crescere i consumi interni è quello di elevare i salari, ma i salari si elevano aumentando la produttività. In questo contesto le uniche imprese che possono elevare la produttività sono quelle private. Ma le imprese private non ricevono finanziamenti bancari perché questi vengono dirottati tutti verso le imprese inefficienti per tenere in piedi il meccanismo di consenso del regime. Quindi ci ritroveremo in un contesto in cui la crescita diminuirà, il dissenso sociale aumenterà e lo Stato aumenterà la repressione. Con la sicurezza della repressione le istituzioni sociali ed economiche non si modernizzeranno e non distruggeranno il vecchio che deve essere ciclicamente cambiato. La Cina resterà nella trappola del medio reddito. La storia insegna che è molto più facile cadere nella trappola del medio reddito che evitarla. La maggioranza dei paesi ci cade puntualmente. Dal 2008 le imprese private hanno goduto di un ritorno sugli attivi tra il 10 e il 14% mentre invece le imprese pubbliche del 4 e il 6%. È evidente che le imprese private producono molto più PIL rispetto alle imprese pubbliche. Le imprese pubbliche producono circa il 30% del PIL mentre invece le imprese private circa il 70%. Eppure alle imprese private viene assegnato solamente l'8% del prestito bancario mentre invece il 90% del prestito bancario viene assegnato alle imprese pubbliche meno produttive. Le banche prestano non in base a logiche di mercato ma in base a logiche politiche di mantenimento del potere e di sovvenzione dei sostenitori locali. In pratica danno i soldi alle società statali, alle città e alle regioni. Tutti attori che fanno investimenti a bassa e nulla produttività. Questa condizione crea una situazione paradossale in cui il ROA per le grandi imprese è del 6% mentre invece per le piccole imprese dell'8%. Questa è una distorsione incredibile. Nelle economie mature le grandi imprese sono più produttive delle piccole imprese. Ma in Cina è esattamente l'opposto, non è una cosa positiva. Sono le imprese grandi ad essere più produttive nel mondo, non certamente quelle piccole. E infatti il problema sta proprio nel fatto che le imprese piccole, produttive e private sono spesso affamate di finanziamenti. Ne ricevono, come abbiamo detto, solo l'8%. Il 60% dell'economia cinese riceve solo l'8% dai finanziamenti bancari. Ecco perché restano piccole. Questa è una distorsione molto importante che genera inefficienza. E inoltre ci sono altri problemi. Vi parlerò dell'ultimo rilevante, il problema della trasparenza. Questo è un altro fattore che contribuisce alle distorsioni. Nessuno crede ai dati cinesi. E la manipolazione dei dati è uno strumento diretto del mantenimento del potere della leadership cinese. Le città manipolano i dati per ottenere vantaggi dalle regioni. Le regioni manipolano i dati per avere vantaggi dallo Stato. E infine lo Stato manipola i dati per ottenere vantaggi internazionali e per mantenere il consenso interno. Nessun membro dell'élite rinuncerà mai a questo strumento di manipolazione perché lo si usava direttamente da Mao e perfino prima di Mao. Ma questo rappresenta anche la debolezza del sistema economico. Perché nessun privato vuole fare investimenti ad occhi chiusi. Finché l'economia cresceva le cose andavano bene e si investiva. Ma adesso bisogna fare attenzione. Questa menzogna non può andare avanti. Concludiamo qui questo video. Non sono riuscito a farlo troppo approfondito, ma prometto che in un'altra occasione approfondirò ulteriormente la questione della Cina. C'è molto altro da dire. L'economia cinese è molto molto distorta. notici tutto questo L'economia �� Viagg剤 Stato Verilare Ariyan